Grave incidente nella giornata del lunedì 5 settembre intorno alle 14.30 sulla strada provinciale 40 che collega San Benigno a Follizzo. Una Fiat Panda è andata a scantarsi contro ad un camion adibito al taglio dell'erba. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Torino, l'elicottero Drago dei vigili del fuoco, l'elicottero del 118, i carabinieri di Volpiano e del nucleo radiomobile di Chivasso e la polizia locale. Inutili purtroppo i tentativi di salvare il conducente, un 57enne di Montanaro. Le cause del sinistro sono al Valle dei Carabinieri. Grazie a tutti.